La condizione portata dal Covid ha inesorabilmente cambiato le abitudini della clientela di bar e ristoranti, limitazioni che per gli esercenti hanno portato da un aumento del costo del personale e a una crescita delle spese per l'adeguamento degli spazi all'enorme Covid, fattori che unitamente a un incremento anche di diverse materie prime stanno portando a piccoli aumenti dei prezzi per una colazione al bar o un pranzo al ristorante. Devo dire per ora particolarmente morigerati con grande attenzione solo in alcune situazioni. È ovvio però che i maggiori costi dovuti alla pandemia sono ormai inseriti nelle aziende. Parlo di maggiori costi per la formazione del personale, maggiori costi per le materie prime, proprio maggiori costi di servizio, maggiori costi per le attrezzature. Tutto questo non potrà che riflettersi in modo non esagerato ma abbastanza significativo sui prezzi. Certo, quello che varrà sarà il rapporto di fiducia tra la clientela e tutto il settore dei pubblici esercizi perché i nostri clienti sanno bene che noi faremo l'impossibile per tenere i prezzi adeguati o sicuramente parametrati alla situazione. Una condizione su cui Gianluca Grimi, presidente del Fiepet Confesacenti di Teramo, chiede comprensione ai clienti, spiegando come i locali teramani in particolare abbiano sempre avuto prezzi assolutamente concorrenziali. Noi veniamo da una storia di prezzi sostanzialmente bassi. Il nostro settore pubblici esercizi, sia nella ristorazione che nel settore bar, è quello che probabilmente in Italia ha i prezzi più contenuti. Questo non cambierà, noi continueremo su questa politica professionale e attenta nei confronti della clientela. Purtroppo non potrà mancare qualche piccolo ritocco, proprio ripeto, dovuto a situazioni contingenti, non ripetibili, ma ormai significativamente centrate nel discorso post-pandemico. Grazie a tutti.